Ciao a tutti amici e ben ritrovati in compagnia del vostro Micetube. Oggi abbiamo un paio di cuffie marchiate Granvela Modello G10, delle cuffie che si definiscono un paio di cuffie da gaming che però non lo sono perché a parte il prezzo che sono di 11 euro, ma a qualità sonora e a qualità del microfono non ci siamo proprio. Ok, andiamo a vedere l'interno della convezione, convezione molto particolare in questa scatola in metallo, convezione che devo dire la verità, appena l'ho vista mi sono sembrato un paio di cuffie davvero molto di qualità che però con la dotazione, con la qualità costruttiva lo sono, però in qualità sonora che è la parte più importante ci siamo trovati un po' delusi. Allora, torniamo alla confezione dove troviamo dei gommini di ricambio, di cui due molto particolari, aspettate che li rimuovo dalla bustina così ve li faccio vedere, sono uno di colore nero e uno di colore verde, quelli verdi sono già inseriti nelle cuffie però io li ho tolti perché non mi trovo comodo con questi gommini, sono di quel materiale, non so se avete presente, quei tappi per l'orecchio da muratore oppure da persone che lavorano in campo edilizio ma vedete qui hanno questa consistenza, vedete, e rimangono così, si adattano perfettamente all'orecchio. Adesso uno mi è caduto per terra, comunque le vado a prendere anche un altro verde, rimane nella stessa posizione dove lo lasciamo, dopo con il passare del tempo ritorna alla sua forma originaria, poi ci sono una mollettina e altri gommini di altre misure. Poi abbiamo un cavo che ha un ingresso jack e due uscite, anzi o meglio due ingressi e un'uscita che servono per il microfono, una è per le cuffie e l'altra è per il microfono, appunto perché si possono collegare al PCI. Poi abbiamo un manuale rapido, si sono un po' sprecati a scrivere, non si capisce molto, anche se adesso vi faccio vedere una funzionalità delle cuffie. Come detto in anticipo, sono delle cuffie davvero costruite benissimo, infatti siamo rimasti un po' delusi dalla qualità sonora che adesso vi andrò a dire. Le cuffie sono costruite qui in questo materiale anche metallico, quindi non si sono stati compromessi in quanto a realizzazione di queste cuffie. cavo molto lungo, un metro e sette di questo colore verde, ci sono due colorazioni, rosso e verde, a noi ci hanno dato questa colorazione verde, davvero molto molto bella, mi sono piaciute particolarmente. E poi qui, all'aggiunzione delle due cuffie auricolari, abbiamo il microfono, con due funzionalità, a parte quella di microfono, e poi abbiamo qui il tasto per rispondere e riagganciare alle chiamate e una slitta per andare avanti, indietro, nelle nostre tracce musicali, che funziona soltanto con i dispositivi Apple, quanto dichiarato sul manuale di istruzione. Infatti sul mio Nexus 6 non dava alcun segno di funzionalità, quindi quando andavo avanti e indietro non succedeva nulla. Riguardo al suono, lo ripeto per la decima volta perché mi ha proprio lasciato l'amaro in bocca questa cosa, che il suono, a parte che qui abbiamo la R e la L, di cui il suono si sente maggiormente sulla cuffia L, quindi non c'è stato nemmeno un bilanciamento giusto tra i due auricolari. Poi il suono è davvero molto molto basso e magari con l'attacco al PC questo problema si risolve, quindi il volume è un pochettino più alto. Però se lo attaccate al vostro smartphone per sentirci la musica, dobbiamo dire che siamo rimasti davvero delusi. Bassi quasi inesistenti e si sente un suono un po' ovattato, come si usa il dire. Quindi in campo di suono non ci siamo proprio. Poi io appena ho visto qui la scritta gaming, mi credevo che era un prodotto valido, poi sono andato a vedere il prezzo, 11€ circa, e quindi mi sono un po' rigreduto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, un saluto da MyTube e vi lascio appuntamento alla prossima recensione. Grazie. 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 Grazie.